Il freddo e l'umidità che ti entrano nelle ossa non perdonano soprattutto chi ha scelto e stato costretto a vivere una vita ai margini della società, per strada, in rifugio di fortuna, sotto qualche cartone. È morto così da solo nel freddo della serata dell'Epifania un 42enne di origini russe, senza fissa dimora, a trovare il suo corpo senza vita in via Trento in un parcheggio, una pattuglia della polizia, qualche precedente per furto di alcolici e sanzioni per ubriachezza molesta. Una vita allo sbando, finita a causa forse di un malore sul corpo, non ci sono infatti segni di violenza. La salma è a disposizione dei familiari che saranno da rintracciare in Russia.